ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video oggi ritorno con il progetto smaltimento quindi make up smaltito del progetto smaltimento e il nuovo progetto smaltimento allora innanzitutto vi ricordo che se non siete ancora iscritti al mio canale di iscrivervi piacciando sul pulsantino qua sotto iscriviti e attivando la campanella di fianco così vi arrivano le notifiche se volete e se vi piace questo video metteteci un bel like seguitemi su instagram se ancora non lo fate vi lascio il link diretto giù nell'info box e se volete commentate allora progetto smaltimento ho smaltito quasi tutto a parte due cose una cosa no due cose si a parte due cose ho smaltito tutto quindi mi ritengo soddisfatta contando che erano allora uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici prodotti su undici prodotti ho smaltito nove prodotti quindi ottimo vi piace la mia nuova birro a me un casino a parte questo allora ho smaltito l'ombretto di essence il contouring e shadow set high new non so se c'è ancora era quello a me mancava la parte chiara e poi c'era la parte scura potevate fare il contouring dell'occhio io lo utilizzavo come ombretto come illuminare cioè come illuminare la piega della palpura mi è piaciuto smaltito come potete vedere completamente terminato poi una cosa un'altra cosa che ho terminato è il correttore come potete vedere tutto terminato di al verde che avevo comprato da dm a 2 euro in l'offerta non mi è piaciuto era non copriva tantissimo però terminato poi la matita per sopracciglia di puro bio se riesco ad aprirvela completamente terminata questa mi è piaciuta tanto e potrei ricomprarla poi senza far cadere nulla giulia ok ho terminato la matita occhi di kiko quelle automatiche è piaciuta completamente terminata questa era la 702 automatic precision eyeliner and cool cool vabbè 24 mesi di pause 0,35 grammi di prodotto completamente terminata non mi è piaciuta poi un'altra matita che ho terminato sempre di kiko è la 405 questa verde più scuro è un verde più scuro è un verde se già vabbè dal tonica sono viola più scuro anche questa non mi piaceva perché era abbastanza morbida però non durava tutta la giornata vabbè terminata poi ho terminato il mascara che nel progetto smaltimento di brochet il 360 volume lo 01 noir piaciutissimo questo mi è proprio piaciuto questo era lo scovolino in setole mi è piaciuto tanto questo proprio ve l'ho fatto vedere in vari video questo è piaciuto poi ho terminato il correttore di mkl che ho preso dalla mia parrucchiera nella correzione rose comunque mkl se volete vedere i prodotti che hanno così hanno anche un canale su youtube se non ricordo male completamente terminato poi ho terminato comunque è quasi finito il correttore il fondotinta di kiko il matte mousse oli free fonduscio con spf 15 nella correzione 05 natural beige 12 mesi di pow 30 ml di prodotto piaciuto tanto davvero mattificante durava faceva le sue 7 8 ore colorazione media piaciuto questo penso che ce n'è ancora forse un'applicazione poi basta e passiamo alle due cose che non ho terminato purtroppo non ci sono non ho riuscito non sono riuscita a terminare sono il correttore di l'oreal che fa stra riflesso l'accordo correttore fondente perfezionatore nella correzione non si sa 5 ml di prodotto a colorazione 5 sub sound questa è la colorazione come potete vedere non è terminato ne ho ancora un po' sul fondo gli ho tolto anche la riduzione però come potete vedere ce n'è ancora per qualche applicazione questo lo utilizzo tutti i giorni da lunedì al venerdì andando al lavoro mi piace tantissimo perché copre bene le occhiaie dura tutta la giornata non si sbosta non si sbosta però purtroppo non l'ho ancora terminato e poi non ho terminato la CC cream di Delidea quella color correct opacizzante per pelli grassi impure come potete vedere ce n'è ancora pensavo che era terminata perché scremendola schiacciandola non ne usciva più prodotto ho detto vabbè la taglio vediamo invece no ce n'è ancora per un bel po' di applicazioni solo che così andrà un po' anche a seccarsi vedremo di utilizzarla poi si è sporcata tutta 50 ml di prodotto 6 mesi di pao non è male come CC cream va bene per le pelli grasse perché non le fa lucidare però purtroppo questo ho fallito non l'ho terminato però solo due prodotti non terminati terminati nel progetto smaltimento che capelli ho oggi? di qua fanno così di qua fanno... vanno per i cavoli loro poi c'è un tempo da lupi da me oggi allora partiamo invece partiamo cioè vi faccio vedere i prodotti che intendo smaltire e con questi partiamo adesso siamo a metà aprile più o meno quasi finito aprile aprile maggio giugno luglio facciamo luglio dai maggio giugno luglio per terminare questi prodotti del nuovo progetto smaltimento allora come cosa voglio terminare? un secondo solo scusate ma è caduta una mattita si dai partiamo dal correttore che avete già visto che era già nell'altro progetto smaltimento ma non riesco a terminarlo il correttore di essence l'olabato matt 12 ml di prodotto io ho la correzione 05 matt ivori questo non c'è più purtroppo non è che non mi piace questo correttore perché mi piace lo suo anche oggi come vedete copre bene le occhiaie però sei mesi di paura oltre li ha passati e quindi devo un po' terminarlo questo correttore quindi lo metto nel progetto smaltimento visto che ne ho terminato uno di correttore mettiamo anche l'altro così vediamo di terminarlo poi metto il blush di Benacos natural powder blush si chiama il fall in love come potete vedere c'è già il buco è un blush dai tre colori rosato c'è una sorta di illuminante e una terra o li mesco tutti i tre insieme oppure io tendo soprattutto ad utilizzare questi due lo suo anche oggi fa un effetto carino a me piace questo non lo utilizzo più di tanto perché è un po' troppo aranciato è un po' terra bruciata tende a tende a virare sul rosso non so come farvelo vedere no così vediamo se così riuscite a capirlo al bordeaux rosso non è che mi piaccia molto però ormai mischiato non è male vabbè comunque metto questo il progetto smaltimento poi metto la matita per sopracciglia di essence la super last 24 ore waterproof questo il quantitativo che ce n'è tanta perché l'ho appena iniziata a utilizzare però in tre mesi penso proprio di terminarla perché la utilizzo tutti i giorni questa mi stia piacendo tantissimo dura tutta la giornata non si sposta la colorazione è perfetta per me eh questa è la colorazione ve lo dico subito se la provo non c'è scritto 24 ore in crema per sopracciglia di essenza all'acqua ingredienti però non c'è la colorazione vediamo no non c'è la colorazione peccato comunque questa questa è la colorazione ci sono varianti di color c'è più scura più chiara mi sembra un'intermedia comunque questa ottima e penso anche di terminarla poi metto ben quattro matite per gli occhi però sono al termine e quindi voglio farle fuori perché voglio utilizzare altri prodotti la 04 di Kiko non c'è più la scritta aveva aveva 36 mesi di pao ma mi sa che l'ho terminata la 04 l'ho terminata non c'è più la mina non so dove sia finita qua non c'è l'ho utilizzata ieri sera che era sabato sera l'ho messa per uscire e come potete vedere non c'è più la mina quindi una matita in meno una matita terminata mettiamola così poi allora ritorniamo allora sono tre le matite che voglio terminare eh matite occhi che voglio terminare sono due di Kiko e una di Essence partiamo con quella di Essence è questa nera questa macchina nera eh questa mi sembra era la ehm non c'è più la scritta comunque di Essence eh di Kajal 36 mesi di pao questo quantitativo quindi penso proprio di terminarla la breve poi eh passiamo a Kiko e Kiko eh ho questa grigia che avete già visto è la 815 sì 815 non si vede molto il numero però è questa grigia e anche questa è diventata piccolina piccolina e poi un'altra di Kiko che mi piace tantissimo questa è la 02 colorazione verde questa mi piace quando voglio fare un look che mi valorizzi però semplicissimo metto solo questa all'interno dell'occhio la fisso con un po' di ombretto verde un bel po' di mascara e via fantastica tende un po' a sbavare leggermente però è fantastica a me piace tantissimo cioè ve la faccio anche vedere ma l'avete già vista che colore cioè fantastica io l'amo questa matita però è un casino che ce l'ho eh sono non il pau si è anche cancellato ottimo eh comunque è la 02 di qua aveva ha il suo sfumino però vabbè non lo si io ogni tanto lo utilizzo ogni tanto no non è che mi piaccia molto però vabbè la metto nel progetto smaltimento perché voglio terminarla e niente basta eh finito questi qua sono i prodotti che ho smaltito riguardanti il progetto smaltimento quelli che aggiungo nel progetto smaltimento quindi noi ci vediamo abbiamo detto a maggio giugno luglio metà luglio fine luglio con l'aggiornamento spero di terminarli si adesso scrivo i prodotti i nuovi prodotti che metto in progetto smaltimento e niente io vi ricordo ancora di iscrivervi di attivare la campanella di mettere like e di commentare se volete e di seguirmi su instagram se ancora non lo fate io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti